Il giubbotto EcoJacket è stato pensato per tenerti al caldo per le attività del tempo libero e per quelle sportive. La tecnologia WarmSafe e la calda imbottitura in micro pile lo rendono adatto sia per la stagione autunnale che per quella invernale, al prezzo di soli 25 euro anziché 57,96.